All'essere umano servono molte cose per sentirsi vivo Una famiglia L'amore Il sesso Ma serve una sola cosa Per essere vivi davvero Serve un cuore che batte Quando il nostro cuore è minacciato Reagiamo in due modi Fuggiamo Oppure Reagiamo Esiste un termine scientifico per questo Combatti O fuggi È l'istinto Non possiamo controllarlo Oppure sì Easy È l'istinto È l'istinto È l'istinto È l'istinto